A questo magnifico corteo, pieno di giovani e meno giovani, e soprattutto un saluto al Movimento No Grandi Navi, No Mose, che si batte da anni come noi contro le grandi opere inutili e contro la devastazione dei territori. Fermare il cambiamento climatico vuol dire fermare le grandi opere inutili e lo spreco di denaro pubblico. E come oggi è ancora più importante ribadire questo concetto e farlo insieme a chi si mobilita come oggi, come tutti questi giovani che hanno partecipato al corteo di oggi e che si mobilitano da un anno a questa parte per l'ambiente. E' giusto e sarà determinante farlo insieme in questo momento in cui ci propongono un nuovo patto verde, un Green New Deal, un nuovo patto verde per il capitalismo verde. Dovremmo essere capaci di criticare questo concetto e dire che non c'è un capitalismo verde, non esistono opere, grandi opere buone, non esiste un super treno verde, non si può dire di essere ambientalisti e poi voler bucare una montagna piena di amianto. Per questo i no TAV da anni si battono e non si faranno intimidire da chi oggi sulle pagine dei giornali dice che il TAV si farà, il TAV non si farà, il TAV non è stato fatto in questi ultimi 30 anni e non lo farete mai. Grazie a tutti, siamo felicissimi di essere qua e torneremo ogni volta che ci sarà bisogno e invitiamo tutti a venire in Balsusa. Grazie a tutti.